Enrico Gironi, per commentare questa bella vittoria, è convincente anche la prestazione? Sì, è convincente soprattutto nel secondo tempo dove abbiamo trovato i due gol e la partita si è messa quasi subito in discesa. Siamo stati bravi a mantenere la calma, il possesso palla e a rischiare abbastanza poco, penso. C'è stato l'uomo in più, partito dalla panchina e hai colto l'occasione, come si dice, in questi casi. Sì, uno cerca sempre di farsi troppo pronto, questa volta è andata bene, altre volte è andata male, quindi insomma alle volte gira anche bene, lavoriamo sempre per partire dall'inizio e per comunque subentrare nel migliore dei modi. Tre punti importanti per la classifica ma anche per il morale probabilmente. Sì, molto per il morale perché dopo la buona prestazione che avevamo fatto a Monza in Coppa Italia è arrivata un'altra buona prestazione, insomma quando ci sono le prestazioni si vede che ci sono anche risultati.